Mercoledì 16 dicembre l'Assemblea ordinaria e straordinaria della Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo alle ore 10. Considerata l'emergenza epidemiologica Covid-19 tuttora in corso, l'Assemblea si terrà senza la presenza fisica dei soci e quindi esclusivamente tramite il rappresentante designato e individuato dal notaio guerriero da Padula, al quale i soci stanno conferendo deleghe e relativi istruzioni di voto. Un segnale di grande partecipazione e condivisione dei soci della BCC che ad oggi hanno già oltre il 50% conferito delega al notaio per rappresentarli. Considerato il numero elevato dei soci che si sono già espressi, largamente superiore al quorum previsto, entrambe le assemblee si terranno quindi in prima convocazione il giorno 16 presso la sede della Banca in via San Francesco a Buonabitacolo. L'ordine del giorno sarà il seguente, l'approvazione del progetto di fusione con la Banca del Cilento per quanto riguarda la parte straordinaria e l'individuazione dei nominativi da proporre alla Consorella della Cilento per il futuro Consiglio di Amministrazione per la parte ordinaria. Un segnale di grande partecipazione e di maturità istituzionale da parte dei nostri soci, ha commentato il Direttore Generale Angelo De Luca. Un doveroso ringraziamento a tutti per l'elevata partecipazione e un riconoscimento che gratifica tutti noi della governance per la sensibilità e la fiducia che ancora una volta ci hanno testimoniato. Stiamo realizzando oggi il futuro della nostra banca, ha aggiunto De Luca. La grande forza della famiglia BCC Buonabitacolo, maturata in oltre 40 anni di storia, oggi è pronta ad affrontare le sfide del futuro prossimo con autolorezza e una visione strategica lungimirante.